Ti dico che l'amore è come il crimine non paga, fai scena e poi rovini la serata, se il palo quando arriva l'aretata ti chiedo... Io credo che mentre Gioventù bruciata, no, è un po' l'album legato al mio passato, Get to Limpo è proprio l'album dei miei 28 anni, io questo disco l'ho iniziato a scrivere due anni e mezzo fa e devo dire che c'è molto viaggio all'interno di questo disco, infatti io durante la quarantena non ho scritto moltissimo, però devo dire che nonostante siano passati due anni, riascoltando le canzoni di questo disco mi ci ritrovo ancora oggi. Il mondo della mitologia è un mondo che mi ha sempre appassionato, da quando sono piccolo, però il concept del disco in realtà è uscito quasi un po' per gioco nel testo di Rapide, quando dico il ricordo è peggio dell'ave, che volevo paragonare la cosa più brutta agli inferi della mitologia. Può sembrare un disco un po' più elaborato rispetto a Gioventù bruciata, però devo dire che è uscito tutto abbastanza spontaneamente, non ho pensato a come sarebbe uscito alla strada sonora, musicale e di produzione che avrebbe preso il disco, diciamo è semplicemente uscito così. Ciao a tutti, volevo salutare i lettori di Dire Giovani e mandarli un bacione.